Eccellenze, carissimi fratelli e sorelle, carissimi amici, desidero ringraziare il Centro Astalli e il suo presidente, padre Camillo Ripamonti, per il suo gentile invito a condividere il mio pensiero sull'importanza di costruire un'Europa più solidale nell'occalienza dei rifugiati. Nel contesto della presentazione del rapporto annuale, mi avrebbe piaciuto di essere con voi, ma il virus Covid ha distrutto questo progetto mio. Si assiste ad un cambiamento epocale in Europa e nel mondo e non possiamo essere semplicemente spettatori passivi di questo cambiamento. I cristiani e di ogni persona di buona volontà, indipendentemente dall'appartenenza religiosa, sono costantemente messi in questione dai bisogni dei loro prossimi. Persone sofferenti si rivolgono a noi disperatamente, nel nostro quartiere, nelle nostre coste e nelle nostre terre, chiedendo il nostro sostegno, la nostra generosità, il nostro amore, come sorelle e fratelli, mentre vivono la tragedia di essere costretti a lasciare i loro paesi d'origine per sopravvivere o per cercare una vita dignitosa e sicura per loro e le loro famiglie. Alcuni impiegano anni in questo pericoloso tragitto per raggiungerci, attraverso deserti, frontiere e mari ostili, e quando bussano alla nostra porta non l'apriamo e facciamo finta di non sentire. 24.600 migranti hanno perso la vita in Europa dal 2014, soprattutto nel Mar Mediterraneo. Questo è semplicemente inaccettabile. È uno scandalo per la coscienza umana. È una vergogna per la nostra civiltà. Non possiamo accettare che il Mar Mediterraneo diventi un enorme cimitero. Non sono nemmeno accettabili le condizioni e i maltrattamenti che incontrano nel loro viaggio, come dimostra la situazione in Libia, dove torture, trattamenti crudeli, stupri e abusi sessuali sono all'ordine del giorno. I nostri paesi europei non possono cooperare con questo processo di disumanizzazione sistematica dei migranti e dei rifugiati che disumanizza anche noi. Abbiamo l'obbligo morale di denunciare tutto ciò, di esigere che le nostre autorità trattino umanamente tutti, indipendentemente dal loro status giuridico. Non possono paesi civili sancire per proprio interesse torbi di accordi con malviventi che schiavizzano le persone, ha detto Papa Francesco recentemente a Malta. Noi cristiani, quando vediamo i migranti e i rifugiati, dovremmo esclamare «Tu sei il volto sofferente di Cristo, sono il tuo vicino e sei mio fratello». Sono qui per aiutarti a recuperare, a camminare insieme, a vedere come la tua vita tra noi ci arricchisce reciprocamente, come sei parte della nostra comunità. siamo chiamati a riconoscere Cristo stesso in ogni fratello abbandonato o escluso e a vedere i migranti e i rifugiati nella loro diversità come l'opportunità di crescere come Chiesa di arricchirci mutuamente attraverso il dialogo interculturale che può emergere da questo incontro. «Ogni piccolo sforzo, ogni piccolo passo e impegno in questa direzione è un prezioso e valido esempio che diamo al resto dei nostri fratelli. Non dobbiamo dimenticare che siamo il poco di lievito che può fare fermentare tutta la pasta». «La terribile, disumana e ingiusta guerra in Ucraina rende più che mai valida l'idea comunemente espressa che non possiamo dare la pace per scontata». Questa tragedia è così geograficamente vicina a noi ed inedita da decenni nel nostro amato continente europeo che ha scosso le coscienze dei cittadini dei nostri paesi. Ma nel mezzo di questa tragedia incontestabile vediamo con speranza come esponenti politici hanno reagito in modo positivo riguardo agli oltre 4 milioni di ucraini che cercano protezione internazionale dimostrando che volendo gli strumenti giuridici si trovano per fornire accesso al territorio dell'Unione Europea e garantire i diritti fondamentali dei rifugiati. I nostri leader politici sono a chiamata a difendere la centralità della persona umana e trovare il giusto equilibrio fra il duplice dovere morale di tutelare i diritti dei propri cittadini e quello di garantire l'assistenza e l'accoglienza dei migranti. Abbiamo anche visto un'incommensurabile effusione di solidarietà e generosità da parte dei nostri concittadini della società civile e naturalmente di tanti cristiani parocchie sacerdoti e suore e ciò ci rende molto orgogliosi. Questo è il vero spirito cristiano di accoglienza. Dobbiamo continuare sulla strada segnalata in questo senso dal Papa Francesco per promuovere, proteggere e integrare i nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati che hanno bisogno di noi. Ci è stato riferito che bande criminali di trafficanti si posizionano sul confine ucraino per reclutare vittime soprattutto donne minori utilizzando tecniche di adescamento e inganno per sfruttare persone vulnerabili. Questo non è un fenomeno nuovo in Europa poiché sappiamo che le vittime della tratta sono per lo più cittadini dell'Unione Europea che vengono schiavizzati nel loro paese d'origine o trasferiti da un paese all'altro dell'Unione. Dobbiamo cercare di essere sufficientemente cauti e vigili per proteggere le potenziali vittime ed evitare che cadano nelle reti degli schiavisti del ventunesimo secolo. Dobbiamo lodare il buon lavoro di tanti per la prevenzione di questo crimine per proteggere le vittime e per perseguire il copevoli. iniziative come Talitacum la Rete Internazionale della Vita Consacrata contro la Tratta di Persone o il Gruppo Santa Marta sono esempi fruttuosi e tangibili tra molti altri non meno lodevoli che mostrano l'azione e l'impegno cattolico per porre fine a questa forma moderna di schiavitù. Le nostre responsabilità verso i nostri fratelli e sorelle ucraini in pericolo non devono nascondere o diminuire la nostra preoccupazione anche per altri fratelli e sorelle che cercano rifugio e protezione nei nostri paesi e sono vittime di altre guerre talvolta dimenticate o situazioni di violenza o di estrema povertà dall'Afghanistan alla Siria al Bangladesh alla Nigeria al Libano o il Venezuela solo per citare alcune. Nemmeno possiamo essere indifferenti verso coloro che vogliono migliorare la loro condizione sociale ed economica provenienti dai paesi del Nord Africa o dell'Africa subsahariana. Nessuno deve essere lasciato indietro. Ogni essere umano conta al di là della sua nazionalità etnia razza o religione. L'unicità di ogni persona creata ad immagini di Dio è una convinzione centrale della nostra fede cristiana. e deve essere messa in atto senza eccezione trattando ognuno come merita la sua dignità. La civiltà dell'amore che siamo chiamati a costruire non è compatibile con lo scarotto dell'altro, con la xenofobia, la discriminazione o la promozione dell'odio, cose tutte che ledono la sacralità e la dignità di ogni essere umano. Come istituzione di advocacy della Chiesa a Bruxelles, la Comece porta le proposte e gli orientamenti della Chiesa cattolica e delle conferenze episcopali nell'Unione europea per proteggere meglio i migranti, i rifugiati e le vittime del traffico di esseri umani nel contesto del suo regolare dialogo con le istituzioni dell'Unione. europea la Commissione delle Chiese per i migranti in Europa e il Comitato dei rappresentanti delle Chiese ortodosse presso l'Unione europea. È stato creato più di 15 anni fa un gruppo cristiano sulla migrazione e l'asilo come organo regolare di cooperazione tra le istituzioni cristiane con sede a Bruxelles per contribuire insieme al dibattito pubblico e alle politiche sulla migrazione e l'asilo. È in questo contesto per esempio che la Comerce sta sostenendo l'adozione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo come un valido strumento di partenza per gli Stati membri dell'Unione per avvicinarsi nella ricerca di soluzioni comuni richieste da questa svida che è anche comune. Più recentemente il segretariato della Comece ha presentato il suo contributo alla consultazione pubblica della Commissione europea in vista di una possibile revisione della direttiva antitratta dell'Unione. In questo compito della Comece un gruppo di lavoro sulla migrazione e l'asilo con delegati nominati dalle conferenze episcopali dell'Unione europea assiste il segretariato nelle sue attività. Come presidente della Comece vorrei fare un appello ai nostri fratelli cristiani ai nostri cittadini e alle istituzioni europee ai nostri leader responsabili politici unirsi in uno sforzo comune per rendere la nostra Europa un posto migliore per tutti dimostrando che i nostri principi universali si incarnano nelle nostre politiche nella nostra vita quotidiana e non solo nei concetti retorici promuovere una cultura dell'incontro profondamente radicata in un popolo nelle sue convinzioni più care e il suo modo di vivere ci permetterà di trascendere le nostre differenze e divisioni voglio anche lodare e ringraziare gli importanti sforzi compiuti dal servizio dei gesuiti per rifugiati e il Jesuit Refugee Service così come da altre istituzioni cristiane nei paesi vicini all'Ucraina in particolare in Polonia per la loro vibrante contagiosa generosità e solidarietà che ci alimentano a rinnovare il nostro impegno ad amare Dio e il nostro prossimo in uno spirito permanente di conversione e come ho il Jesuit Refugee Service anche a Lussemburgo sono testimone della sua azione meravigliosa sono stato alla frontiera della Polonia e dell'Ucraina la settimana scorsa e ho incontrato tanti volontari polacchi ma anche irlandesi statunitensi portughesi tutti avevano una grande felicità nel loro cuore una felicità che non si vedeva più negli occhi dei cittadini europei io auguro che anche quelli che governano i nostri stati riescano a capire questo che l'uomo è soltanto felice se sa aprire la sua casa la sua tasca se sa accogliere l'altro e dare del suo per la felicità dell'altro grazie per la vostra attenzione l'uomo l'uomo l'uomo